ragazzi che dire ci sono arrivato a sposarmi una cosa bellissima ma devo dire una cosa che è stata veramente veramente dura ma soprattutto nel balletto che ora vedrete che è stato molto difficile se potesse se potesse se potesse non tutti non ho tutti come te ma ma dov'è pensare se potesse se potesse i che i Grazie a tutti 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 Grazie a tutti